Fa ingresso il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica. E' aperta l'adunanza della Corte Suprema di Cassazione, riunita in Assemblea Generale, pubblica e solenne per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015, alla presenza del Signor Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica. Questa cerimonia si svolge senza la presenza del Presidente Giorgio Napolitano, le cui funzioni sono oggi esercitate per dettato costituzionale dal Presidente del Senato Pietro Grasso, cui rivolgo anche a nome di tutti i partecipanti a questa Assemblea Generale il mio deferente saluto. Al Presidente Giorgio Napolitano rivolgo un pubblico ringraziamento, esaltando nell'autorevole e apprezzato ruolo di prezioso custode delle istituzioni repubblicane e dei principi consacrati nella Carta Costituzionale. Con l'augurio sentito e affettuoso di riprendere meritatamente la propria vita dopo nove anni di straordinario impegno. In nome del popolo italiano dichiaro aperto l'anno giudiziario 2015. La donanza è tolta. Grazie. Applausi. Grazie.